Musica Vorrei approfondire con voi uno dei punti fondamentali del programma di Casa Polla 5 Stelle che è l'acqua potabile. L'acqua si sa è un bene naturale primario e riteniamo che i cittadini debbano essere i sovrani dell'acqua potabile di Rubinetto. Per far ciò è necessario che si raggiungano tali obiettivi. Per noi l'acqua è e deve rimanere pubblica e la distribuzione deve avvenire sotto la gestione dell'ente comune. È necessario l'installazione di punti di distribuzione di acqua minerale naturale liscia gratuita e di acqua minerale gassata a prezzo popolare di 5 centesimi al litro e altresì importante la pubblicazione e il monitoraggio dell'acqua. L'acqua pubblica deve essere certificata e monitorata. Questo può avvenire mediante la pubblicazione degli analisi mensili delle acque di falda e acqua potabile. Stimoliamo e incentiviamo l'utilizzo dell'acqua pubblica e dell'acqua comune nelle scuole. Previa pubblicazione delle analisi non soltanto online ma anche mediante l'affissione presso la sede comunale e presso le bacheche scolastiche. Altresì è necessario installare più fontane pubbliche soprattutto nei punti di grande frequentazione pedonale e ciclabile. Ci impegniamo ancora a porre in essere tutte le iniziative volte al risparmio, al riuso e al riciclo di ogni risorsa idrica ed a porre in essere l'attuazione delle reti fognarie separate. Per ragioni di opportunità mi rinvio al programma di Casa Pulla 5 Stelle. Vinciamo noi!